axim y4.26.1 questo è il nuovo aggiornamento che hanno fatto come vedete perfettamente funzionante come vedete ci sono anche vecchi eventi e tutto tutto perfetto il link del download lo lascerò in descrizione non mi assumo nessuna responsabilità di danni o uso improprio del materiale essendo solamente una guida a scopo illustrativo e con questo è tutto alla prossima grazie